E adesso che ti rimane? La cosa dire, Totò? Il rispetto. Il rispetto? Il rispetto di chi? I tuoi amici? Il rispetto alla famiglia? E dove sono i tuoi amici ora? I politici, il potere, non ne so. Per dire tutto, Totò, è rimasto solo. Anzi, anzi no. Lo so, non è rimasto solo io. Per questo mi hai lasciato campare. Non è così? Perché avevi paura. Paura di restare solo.